Il sistema funziona anche grazie al contributo di tutti i professionisti, di tutti i provider, delle società scientifiche in particolare e adesso noi iniziamo un nuovo triennio che conclude questo avvio in cui sono stati riconosciuti la visita e la trasformazione da provider provvisorio a provider definitivi e quello che si avvia è un triennio in cui dovremo soprattutto concentrarsi sulla qualità. Qualità per noi sostanzialmente significa che ci sia un'offerta qualificata non solo numericamente ma soprattutto mirata alle esigenze dei singoli professionisti. In altre parole, noi crediamo che nel futuro ciascun professionista debba avere un suo curriculum, un suo dossier e che debba scegliersi la formazione e i contenuti della sua formazione in accordo e secondo gli obiettivi della sua vita professionale.